Ciao a tutti, oggi prepareremo il budino vegano al cacao. Il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti circa. Ingredienti sono latte di soia, zucchero, maizeno o fecola di patate e cacao amaro. Andiamo in via la ricetta. Forziamo all'interno del boccale il latte, lo zucchero, la fecola, il cacao amaro e azioniamo il bimbi per 9 minuti. 90 gradi, velocità 4. Il budino al cacao è pronto. Trasferiamolo in degli stampi monoporzione e lasciamolo raffreddare in frigo per almeno 4 ore. Budino vegano al cacao. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.